Ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo, diamo uno sguardo alla giornata di lunedì come potrebbe essere l'avvio di settimana con un anticiclone che dalla Spagna piano piano raggiungerà tutte le nostre regioni, quindi tempo più stabile, più tranquillo, non ci servirà l'ombrello perché i cieli saranno in gran parte sereni o poco nuvolosi, però qualche fenomeno ancora sulle Alpi più settentrionali, quindi a ridosso di Svizzera, Austria, tutta la parte settentrionale dell'arco alpino per questi fronti atlantici in arrivo dal nord Europa. Andiamo a vedere di fatti la mappa della nuvolosità, ci conferma una giornata con cieli in gran parte sgombri da nubi salvo qualche nuvolamento di passaggio al nord Italia, ma appunto in pianura padana clima asciutto. Infine l'ultima mappa in sintesi dell'Italia, guardate giornata nel complesso buona, le nevicate sulle Alpi settentrionali a quote basse, temperature che al sud supereranno anche i 15 gradi sulle due isole maggiori. Aggiornamenti sull'app di Trebi Meteo!